Se per caso vi trovate di notte davanti ad un nido naturale esclusa con i piccoli di carretta carretta che si dirigono verso il mare attirati da quello che è il luminoso riverbero dell'acqua, sarà fondamentale non toccare gli animali. Anche nel caso in cui dovessero capovolgersi sul dorso sono piccole ma forti e riusciranno a girarsi da sola. Non vanno accompagnati in acqua e assolutamente bisogna evitare di illuminarle con luci o torce, anzi se ci sono fonti luminose e artificiali bisognerà cercare di eliminarle o ridurle. Le tartarugine sono piccole e scure e si confondono molto bene con la spiaggia, perciò bisogna prestare molta attenzione nei movimenti ed evitare di spostarsi per non rischiare di calpestarle, cercando di posizionarsi in sicurezza, bene al di sopra del nido. Cercate di osservare lo spettacolo a distanza senza intracciare il percorso delle piccole tartarughe dirette verso il mare. Sarà fondamentale per tutelare il nido e gli animali e contattare le associazioni competenti come la nostra o la Guardia Costiera.